Dopo gli ultimi episodi di violenza, il Comune fa il punto sul tema sicurezza in città. In via Volta sono stati potenziati i presidi delle forze dell'ordine e presto un'ordinanza sancirà la chiusura degli accessi che, passando dai condomini, portano alla biblioteca, vietando anche gli assembramenti sotto i portici. Dunque si punta su interventi rapidi ed efficaci, coordinati dal Comitato Provinciale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica, che, spiega il sindaco Mauro Gattinoni, hanno permesso di riportare tranquillità in altre zone di Lecco, come il Viale Turati. In aggiunta, un lavoro di prevenzione e accompagnamento viene svolto sul lungo periodo per andare incontro alle situazioni di fragilità. L'impegno del Comune, esattamente, è su questi due versanti, sicurezza e prevenzione e accompagnamento sociale. Sul tema sicurezza, la collaborazione in particolar modo con le forze dell'ordine e con la Prefettura, un grandissimo ringraziamento a Sua Eccellenza il Prefetto e al Questore D'Agostino, permette di intervenire, come è stato fatto, in maniera coordinata e puntuale nei casi di emergenza, nei casi più esposti e nei casi di controllo preciso del territorio, ovunque si ha segnalazione. E in questo senso è importantissimo il ruolo dei cittadini e dei commercianti, che ci permettono di avere una mappa sempre aggiornata di segnalazione. Il Comune, su quest'ambito, grazie all'intervento della Polizia Locale, del Comandante Porta e di tutti gli agenti, intensifica e riprogramma i circuiti di controllo in maniera praticamente quotidiana. Ricorderemo tutti, tra fine l'anno scorso e principio di quest'anno, sui vialturati si erano concentrati episodi che sono stati monitorati, tracciati, circoscritti e quando poi le forze dell'ordine sono riuscite a intervenire in maniera efficace e puntuale, risolvendo un problema che in quel caso evidentemente era un problema di spaccio, di stupefacenti, avete visto che immediatamente si è ripristinata la tranquillità e la serenità. L'altro versante invece è quello della prevenzione e dell'accompagnamento sociale. Non bisogna confondere la criminalità e la delinquenza con le persone che hanno bisogno. Grazie ad alcuni contributi che sono venuti dal PNR nazionale, potremo allestire delle strutture e anche del personale dedicato per accompagnare proprio le situazioni di estrema fragilità.